Questa volta siamo a Maratea di fronte al Cristo, la Statua del Cristo Redentore, che è una delle statue più alte d'Italia, che è alta ben 21,13 metri ed ha un'apertura di 19 metri. Questo è un posto bello, è un po' più in alto rispetto a Maratea, infatti si vede tutto, si vede il porto di Maratea, si vede la Maratea Marina, si vede il paese di Maratea, quindi è un posto molto particolare, molto affascinante e soprattutto qua vengono tanti pellegrini a lasciare le offerte ai piedi di questo Cristo, di questa Statua del Cristo, che è una delle statue più grandi, più alte d'Italia, se non d'Europa. Fermo un attimo, pausa caffè. Dopo questa missione torniamo a casa per progettarne un'altra. Ciao!